Riconosci il posto? Siamo a Bustarsizio, proprio di fronte al tribunale, quindi vicino al centro, e oggi ti faccio vedere un bell'appartamento di quattro locali, doppi servizi, con un bel balcone, con un box oppure due, a scelta. Clicca per le informazioni o vieni a dargli un'occhiata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.